Adesso basta, noi non usiamo un soldo del canone, la verità è questa, noi finanziamo le altre trasmissioni della RAI, comprese quelle che voi partiti avete imposto alla RAI, basta, questa è la verità. Non fatemi pagare il canone, perché dire queste cose completamente false ogni volta è insopportabile, 15 milioni di euro di pubblicità per la nostra trasmissione quest'anno, questa è la verità, il canone non ci serve, non ci serve. Io pago il canone, ma domani mattina io sono per la privatizzazione, io sono per la privatizzazione della RAI, non voglio più pagare il canone, noi vogliamo la RAI pubblica e se ce la testiamo noi sarà una più pagare il canone, siete voi che ci rovinate, 2.500 miliardi di vecchie lire di passivo alla RAI, siamo stufi di pagare il canone. Non li usiamo, posso dire, prima chi l'amministrava, tuo zio e prima chi, sono tutti di sinistra, basta che non diciamo bugie, andate sul mercato che è giusto, poi guadagnate anche 5 milioni al minuto. Non voglio più pagare il canone, ci stufi di 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 pagare il canone. Non voglio più pagare il canone, sono i vostri che sono invendibili e incomprabili, e Sgarbi ha capito, noi siamo del mercato, uomini di mercato. Se lei è così bravo, va a 7, fa 10 milioni di spettatori e è contento, no? Cosa? No, dico, travaglio è così bravo, va a 7. Chi ha speso i soldi per Sgarbi? Chi ha pagato Sgarbi? Io no. Chi ha pagato Sgarbi? Io no. Io no. Io no. Noi l'abbiamo pagato. Io no. Chi paga Mizzolini? Io no. Noi paghiamo Mizzolini. Io no. Chi paga dai 1, dai 2? Noi paghiamo dai 1, dai 2? Siamo stufi, stufi. Anch'io, anch'io, sono stufo di pagare travaglio, va bene? Va bene. Eh, non voglio pagare travaglio, chiaro? Non l'ho pagato per tutto l'anno, ma anche me, ma gli altri anni sì. Se siete così bravi, si va sul mercato e si guadagnano tutti i soldi che si vogliono. Chiedo scusa a tutti, però. È così semplice. Quando è troppo, è troppo. Eh no.